ah finalmente un po di riposo vado a mangiare qualcosa perché ho fatto 21 ore di viaggio c'è stata un'ora di ritardo con il volo da new york a las vegas e sono arrivato quindi qua che erano le 10 passate e non ho praticamente cenato quindi ora vado a cenare e poi vado subito a dormire penso perché domani mi devo svegliare presto la mattina pure perché non so quanti ero dormito effettivamente tra i vari voli e tutto il resto sono infatti tutto scombussolato in questo momento non capisco se ho sonno se ho fame se sono stanco se voglio andare a fare bordello non ci sto capendo niente ok siamo arrivati al new york new york e ora si va a mangiare da gallagher che cosa andiamo a mangiare albi carne come se ma che stai puntando dove stai puntando ma che stai puntando scazzatissimo quanto è arrabbiato ragazzi quanto è arrabbiato non è entrata ancora in un casino grosso no ancora no even if there were 40 more i wouldn't sleep a minute of the way oh there's black jack and poker and the roulette wheel a fortune won and lost on every deal all you need is strong heart and a new steel viva place hot what is this ma abbiamo il nostro caro vegetariano è che è però il più carino di quello che ho pensato time to shine ora bellissima dentro ma ora bisogna vedere se è buona soprattutto quello buona buona ma c'è il bordo che ha veramente troppo grasso il fuori bello bruciacchiato che lo rende un po croccante dentro buone succosa ma c'è un problema c'è troppo grasso sul bordo l'unica cosa è io sono contro quella l'unica cosa io lo tolgo pure al prosciutto io proprio al prosciutto pure quello cotto c'ho questo vizio di togliere tutto il grasso e poi di mangiarlo ho un problema ma lo tolgo a qualsiasi cosa il grasso non lo so perché forse il mio segreto per rimanere magro magri con power che luce sai cosa stavo per dire invece i bonti molto sobri qui a las vegas molto sobrio questo punto no perché poi tu dici che bella visione di qua poi ti giri dove stiamo andando a mangiare noi ancora alle 20 a quello a quello il palazzo ti mangi il palazzo il palazzo di cesare sono tutte quelle scene di una notte da leoni 1 cioè vi posso dire una cosa la voglio in soggiorno dai dillo dai la voglio in soggiorno no sto dicendo non è in stile di una talk show allora non ci sarebbe bene una fontana così nella zona talk show a fianco ai droni no comunque so per dire una cosa molto seria che questo posto mi resta un po sobrio la normalità boys viene più naturale rimanere per x secondi devo guardare però aspetta devo guardare l'obiettivo è proprio è proprio difficile da fare come ti dici si mette sghieri vabbè 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 qui a presto 2 niente ragazzi finiamo ora il terzo giorno di blog e ci becchiamo domani ovviamente in streaming anzi no domani sono in viaggio in aereo vabbè niente buonanotte boys alla prossima le schiere tutte schiere ah beh non importa è bello per quello perché è naturale come alvise e il suo cazzo picco